Bentornati ragazzi, allora, dato che è appunto uscito il nuovo aggiornamento di Pokémon Unite che introduce un nuovo Battle Pass e anche la possibilità di giocare su mobile vi vado a spiegare come poter sincronizzare i vostri dati sia su Switch che su appunto mobile innanzitutto potete tranquillamente scaricare il gioco appunto su iOS e Android e se avete già giocato a Pokémon Unite su Switch semplicemente andate nelle vostre impostazioni che trovate ovviamente premendo ZL su Switch e andando su impostazioni account come vedete io qua ho sia l'account Nintendo che club allenatori di Pokémon essenzialmente voi cosa dovrete andare a fare? create o un account Nintendo o un club o un account del club allenatori di Pokémon sono veramente delle procedure facili però ovviamente se siete ancora piccoli fatevi aiutare dai vostri genitori account Nintendo è quello che avete su Switch quindi magari potete utilizzare subito quello club allenatori di Pokémon e lo potete creare tranquillamente su Pokémon.it dopodiché quando avrete scaricato Pokémon Unite su cellulare potrete una volta entrati sulla schermata iniziale del gioco o iniziare un nuovo account oppure tramite appunto il pulsante che trovate letteralmente nella schermata trasferire i vostri dati da lì cosa fate? Ovviamente il login con l'account Nintendo o club allenatori di Pokémon scaricate i dati e avete fatto ora potete giocare su mobile con i vostri progressi che avete già su Nintendo Switch è veramente semplice e facile e inoltre vi ricordo che su mobile se avete pre-registrato ma credo che comunque sia valga per tutti perché l'obiettivo era sì pre-registrarsi però non bisognava essenzialmente pre-registrarsi per ricevere questi reward avviando il gioco su mobile ottenere 1000 monete la licenza di Pikachu anzi 1000 ticket la licenza di Pikachu che se avete già vi garantirà 6000 monete e in più una skin di Pikachu che adesso vi faccio pure vedere nel caso non l'abbiate mai vista è molto carina ed è a tema festival giapponese eccola qui la vedete già è la skin festival tuttavia ora come ora c'è un piccolo problema ovvero che alcuni account non possono andare a riscattare questi premi quindi aspettate e col tempo ovviamente verrà risolto tutto detto questo ovviamente un mi piace per supportare il canale iscrivetevi se ancora non l'avete fatto con Diego per oggi è veramente tutto noi ci vediamo in un prossimo video ciao ragazzi